Il torneo di calcio internazionale Città di Agropoli è un'istituzione da oltre 40 anni nella città del Fina. Quest'anno è in programma la 42esima edizione, nella settimana prima di Pasqua. Tanti calciatori che da Agropoli hanno spiccato il volo nelle proprie carriere. Pensiamo ad esempio al fuoricrasse ucraino Andriy Shevchenko. Delle tante squadre partecipanti dei preparativi di quest'anno ci ha parlato lo storico organizzatore del torneo Antonio Inverso. Sentiamo le sue parole. 42, sì, noi abbiamo cominciato nel 1982, lontanissimo 82, e allora erano 8 squadre e c'era già qualche squadra straniera anche alla prima edizione. Il torneo è continuato sempre così, abbiamo avuto almeno sui 30-35 nazioni provenienti da tutto il mondo, dal Venezuela a Sud America con anche il Peru, il Brasile, il Porto Rico del Nord America, chiaramente gli Stati Uniti e Canada in continuazione, e anche dalla Colombia ad esempio. ci sono stati sempre questi club stranieri, è cambiato soprattutto l'ospitalità rispetto ai primi anni, perché i primi anni gran parte delle squadre andava nelle famiglie agropolesi. Un anno, ricordo bene, che ben 300 ragazzi erano ospitati in 150 famiglie di Agropoli, ognuno aveva i suoi orari, dove portarli, eccetera, e erano contentissimi di ospitarli a casa. Contenti anche i ragazzi, facevano esperienze nuove, venivano soprattutto dall'est Europa, ma anche dall'America. E molti sono rimasti amici per tanto tempo, e penso addirittura ancora adesso. Sono moltissimi, anche altri giocatori dell'est che si sono poi affermati. L'ultimo in ordine di tempo è stato Parisi, che gioca nella Fiorentina, che è venuto qui con la Virtus Avellino. Il fratello, peraltro, gioca proprio nella Virtus Avellino, che è nel girone dell'Agropoli, ha giocato ad Agropoli, pareggiando 0-0 contro la squadra agropolesi. Gli stranieri, invece, cominciarono il primo anno, nel 1900, intorno agli anni 80, anche 90 soprattutto. Quando è venuto Cevchenko, eravamo lì a fine anni 80, ricordo l'89, e c'era una curiosità, perché loro erano stati invitati come Russia, non c'era l'Ucraina. Cevchenko è venuto qui con la maglia del CCCCP della Russia, era Dinamo Kiev, ma la nazionalità era ancora russa. Poi, l'anno dopo, cadde il muro di Berlino. Per novembre, ci fu lo smembramento dell'impero russo e l'Ucraina divenne, a tutti gli effetti, uno stato a parte. Ci sono venuti anche molti osservatori, che ci chiedevano l'accredito, volevano vedere i ragazzi e volevano anche l'orario delle partite dove si giocava. Questo anche per squadre professioniste, ovviamente. Il Milan, ad esempio, ce l'ha chiesto per molti anni. Adesso non più, perché è cambiato molto anche qui. Chiaramente gli scotting, come chiamano adesso, girano per conto loro senza avvisare organizzazioni o altro. Ma comunque, sempre una vetrina notevole. Vi partecipano anche quest'anno. Se vogliamo parlare della manifestazione di quest'anno, in tutte le categorie, sono 14, almeno 8 squadre a categoria. Quindi siamo intorno a 100 squadre partecipanti. Si comincerà il martedì della settimana di Pasqua, con l'arrivo delle prime squadre straniere. La prima che arriverà sarà il Canada il lunedì. Poi ci sarà la Slovacchia il martedì, a seguire tutte le altre. Ovviamente il grosso delle italiane, provenienti da almeno 8 regioni, arriveranno il mercoledì e il giovedì. Abbiamo squadre che vengono dal Piemonte, dalla Liguria, molto dal Lazio, dall'Abruzzo, dalla Basilicata, dalla Molise, ovviamente dalla Campania. Quindi abbiamo anche squadre pugliesi, mi pare. Quindi diciamo che è un bel confronto di realtà diverse, qui come sempre ad Agropoli, soprattutto all'impianto Guariglia, ma anche sui campi di Pestum giocheremo, o quelli del Cilento.